Innanzitutto c'è da fare complimenti ai ragazzi, anche se purtroppo questa volta non sono i nostri ragazzi e nemmeno le nostre ragazze, bensì quelli di Murigno che ieri sera a Tirana hanno conquistato la Conference League, ho visto il secondo tempo una Roma di sofferenza ma che poi alla fine riesce a portare a casa il risultato, il trofeo, la pagnotta, lo sappiamo bene, è quello che conta, quindi bravi loro finalmente in Italia, torna un trofeo internazionale dopo troppo tempo e il fatto che sia proprio Murigno a portarcelo a distanza dall'ultimo successo che aveva ottenuto proprio lui può essere una coincidenza come no, nel frattempo abbiamo perso alcune finali di Champions con Allegra e la Juve abbiamo perso, hanno perso all'Inter una finale di Europa League con Conte e poi alla fine è sempre Murigno a riportare ancora una volta l'Italia a trionfare anche in una coppa sì, minore, ma chi se ne frega, la Roma giustamente esulta ed è quello che deve fare, la Roma non vinceva niente dal 2008, a livello internazionale davvero ben pochi trionfi per i giallorossi e quindi ci mancherebbe altro, è giusto esultare, è giustissima la gioia dei tifosi della Roma quest'oggi. Tanto che Rubini a proposito di finale europea, a proposito di Champions è a Parigi perché sabato ovviamente si giocherà la finale tra Real Madrid e Liverpool e dovrebbe esserli per trattare, per dialogare con l'entourage di Di Maria, quindi non per parlare con i PSG, ovviamente Di Maria è free transfer tra ragazzi, quindi non c'è bisogno di parlare con la società che l'ha già salutato sui social, l'ha già salutato in campo, Di Maria ha già parlato di questo addio al PSG, l'offerta della Juve c'è, è lì, ma non è ancora stata accettata ed è per questo che cercheranno di limare gli ultimi dettagli. L'altra trattativa importante lato Juve è sempre quella legata a Paul Pogba. Ora, io sono solito a non cascare nei discorsi legati ai social per quanto riguarda gli indizi di calcio mercato perché secondo me c'è sempre poco dietro, però questa volta sono quantomeno incuriosito e affascinato. Perché? Perché Pogba ha pubblicato questa foto che avevo già visto sui social nei giorni scorsi e la descrizione lascia intendere tutto e niente in realtà, perché c'è scritto tu sai che tempo sta arrivando, tu sai che cosa sta per accadere, qualcosa del genere. E fino a qua non c'è intriga, se non fosse che è stato taggato pure il barbiere, il suo barbiere che ha scattato la foto e che ha eseguito il lavoro, che gli ha fatto venire i capelli bianchi e che è il barbiere, bene o male, di tutti i calciatori più famosi al mondo, di tutti i più grandi talenti, lo stesso barbiere di Pogba aveva postato questa stessa foto qualche settimana fa scrivendo bianco e nero Pogbeck Juventus e poi questa foto sul profilo del barbiere era stata eliminata. Pogba ora l'ha ripubblicata, ritaggando il barbiere che ha ricommentato in un certo modo. Ora, vuol dire niente eh, rimaniamo sull'idea che non voglia dire niente, però avrebbe senso del tipo, voglio farmi questo taglio nel mentre che parliamo ti dico che ho avuto questa offerta dalle Juve che sto cercando di valutare oppure no, il giorno dopo il barbiere se ne frega, posta la foto di Pogba dando per scontato che il suo ritorno a Juventus sia ormai cosa fatta, Pogba lo chiama e dice oh cosa stai facendo, io ti ho detto che c'era l'offerta, ma non che in realtà l'avevo accettata, quindi cancella il post perché potrebbe creare qualche problema e poi Pogba con la stessa foto la riposta e quindi magari qualcosa potrebbe dire. Ribadisco, io sono sempre distaccato dal discorso social e calciomercato. Questa però era una storia che andava raccontata. Non vuol dire niente eh, rimaniamo sul fatto che non voglia dire niente. Però ci tenevo a sottolinearla. Tra l'altro io mi sono abbastanza stancato della situazione e vorrei iniziare a chiudere qualche operazione e non tanto per Pogba, non tanto per Di Maria, però dall'inizio del calcio, Maria è anche l'inizio del calciomercato perché inizia tra un po', tra un mesetto abbondante. Da qualche mese a questa parte si parla tanto di mercato lato Juve, si erano fatti i nomi di Zagnolo, chi era deciso la finale di Conference, di Raspadore, si era fatto il nome di Rudiger, si era fatto il nome di Perisic e questi giocatori sembravano tutti molto vicini o comunque importanti e lo sappiamo che in mezzo alle tante notizie verificate, vere, effettive, ci sono diverse fake news buttate lì o comunque trattative che potevano diventare potenzialmente importanti e che poi si sono arenate. Però ovviamente il modo di fare è sempre quello, dare per vicino, vicinissimo, addirittura fatto alcuni giocatori alla Juventus quando poi in realtà l'ufficialità di mercato fino ad adesso lato Juve ce ne sono zero per quanto riguarda le operazioni in entrata. In uscita no, abbiamo già fatto qualcosa, lo sappiamo Di Bala, Chiellini, Bernardeschi, questi sono i tre ufficiali, poi ce ne sono tanti altri, Pellegrini che hanno chiesto di essere ceduti, infatti Cherubini era andato a informarsi anche in Premier, c'è Arthur che potrebbe essere ceduto e quindi Cherubini era andato a informarsi in Premier. Insomma ci sono diversi giocatori che sono sul viale dell'uscita, tra l'altro proprio oggi c'è da registrare anche un interesse del Chelsea per Rabiot, sempre lato Premier, quindi insomma magari ci sono delle richieste per i giocatori della Juve, però lato acquisizioni di giocatori svincolati a parametro zero che potrebbero già firmare, siamo ancora un pelino indietro. Mi sono rotto proprio per questo motivo, ho paura che poi possa saltare qualcosa e la trattativa legata a Pogba non la vorrei mai vedere saltata, sono sincero. E poi sempre legato al discorso della scuderia Mino Raiola, dato che comunque la Juve sta facendo dei grandi discorsi con questi signori, lato Pogba, lato Pellegrini, lato Ken e lato Delit, sappiamo bene qual è la strategia della Juventus lato Delit, rinnovare il contratto, quindi prolungare il numero di anni di Delit alla Juventus, cercando anche di abbassare l'ingaggio, perché Delit comprensivo di bonus al netto guadagna qualcosa come 10-12 milioni di euro, ok? Comprensivi di bonus, sempre intendo. E allora cosa succede? Delit sarebbe pure disposto a rinnovare a ribasso, e questa è sicuramente una gran bella notizia, dall'altra parte c'è una notizia un po' meno bella, e cioè che Delit avrebbe chiesto in cambio di abbassare la clausola recessoria che in questo momento alla Juventus vale 150 milioni di euro, che sono una cifra completamente fuori mercato per un difensore e che difficilmente verrà pagata, spero, davvero spero, perché intanto non voglio perdere Delit, ma anche se a 150 milioni lo devi vendere per forza, ma dico spero perché se iniziamo a spendere questi soldi per dei difensori centrali, ragazzi, vuol dire che veramente il calcio sta andando in una direzione ancora peggiore rispetto a quella che già c'è, poi mi tocca leggere le difese al PSG da parte di chi dirige la UEFA, la Champions, il fair play finanziario, ma ormai abbiamo capito che è tutta una copertura, una facciata politica e niente di più. E quindi Delit vorrebbe cercare di abbassare questa clausola, perché? Perché si vuole dare la possibilità a un certo punto in carriera di poter andare in un altro club, eventualmente, se interessato. Ora, è facile per un tifoso della UEFA dire no, perché dovremmo abbassare la clausola di Delit e robe del genere, però io mi metto nei panni di Delit. In questo momento è un ragazzo giovanissimo, il rampa di lancio, che ha fatto quattro anni di calcio ad alto livello e esperienza internazionale in Champions League tra Juventus e Ajax, giocatore che anche in nazionale, comunque, i suoi minuti li fa. Nella storia della Juventus peggiore degli ultimi dieci anni in questo momento, è un giocatore che sì, è la luce, scusate il gioco di parole con il nome, però voi rimarreste nella Juve peggiore degli ultimi dieci anni o sareste anche affascinati da altre esperienze magari in squadre che in questo momento stanno bene. Ragazzi, credo proprio che sia sacrosanta la volontà di Delit, che non significa che se ne andrà o che ha voglia di andarsene, però lasciare una porta aperta, una specie di pulsante espulsione, tipo in aereo, una specie di paracadute per sfuggire a un certo punto, qualora le cose dovessero ancora di più peggiorare, beh, non lo biasimo per niente, a maggior ragione se la Juve cerca addirittura di abbassarglielo, quell'ingaggio che magari da altre parti andrebbe a guadagnare qualcosina in più, quindi ci sta. Tra l'altro c'è da registrare un altro interessamento anche qua del Chelsea, Chelsea che ad oggi ha un mercato bloccato per via di tutte le cose inerenti a Roman Abramovic, ma che a breve dovrebbe cambiare proprietà e che quindi potrebbe poi operare lato mercato, quindi attenzione perché il Chelsea starebbe buttando un occhio casa Juve tra arabi ed elite, ovviamente la mia speranza è che possa essere molto più lato Francia piuttosto che lato Olanda, ecco, questo lo dico con grande chiarezza. E sempre lato social, ribadisco, come dicevo prima, non fidiamoci delle notizie vere e proprie, però Alvaro Morata ha postato diverse foto con la famiglia, con la moglie e con i bambini, tutti in bianco nero, e c'è una particolare foto in bianco nero che mi ha dato un po' di nostalgia, mi sembra la classica foto dell'addio, quindi a sensazione, perché non sono notizie di calcio mercato, ma quello mi ha sembrato abbastanza un post in cui tra le righe si voleva annunciare una permanenza a Torino sempre più improbabile nella prossima stagione e per salutare quella che è stata casa sua per ben quattro stagioni, anche se non continuative, però Alvaro qua è diventato uomo, Alvaro qua è diventato un giocatore importante, ha conosciuto quella che è stata sua moglie, i suoi figli sono nati in giro comunque per Torino, per il mondo, ma anche per Torino, quindi sicuramente un posto che gli è rimasto nel cuore, come dicevo anche ieri, non credo che Alvaro avrà riscattato a quella cifra, non penso nemmeno che in questo momento l'Atletico abbia voglia di scendere da quella cifra pattuita, quindi verosimilmente Morata potrebbe tornare all'Atletico, poi mi immagino magari durante l'estate la Juventus che proverà comunque a strappare qualcos'altro, quindi un altro prezzo al ribasso magari qualora ci fosse impossibilità da parte dell'Atletico accedere al calciatore in altre parti, in altre squadre, non lo so, però in questo momento quel post lì mi ha fatto pensare a un arrivederci Juve, grazie di tutto, sono, siamo, Juventini, ma il nostro tempo qua è finito, poi sempre la mia interpretazione, voglio sapere anche la vostra e queste sono un po' di notizie, attenzione perché ogni giorno inizia a venire fuori qualcosina di diverso e iniziamo a entrare in quel periodo storico ovviamente in cui il calcio mercato sta iniziando e che quindi tra tutte le chiacchiere qualcosina di vero lo andremo a trovare, bisogna solo capire che cosa è vero e che cosa è falso in mezzo alla marea di notizie che vengono ogni giorno buttate in pasta di social e in pasta di media. Grazie.